Partiti. L'unore steccato la prende giusto a Nuvolore che va al comando nei confronti di New Hope. All'esterno parte fortissimo Nutella Fans che cerca di andare a scavalcare anche l'UberTDL e puntare su Nuvolore. Nuvolore che è al comando Nutella Fans che arriva prestissimo a scavalcare l'UberTDL. Vediamo le scelte di Fabrizio Culla che quando vede Nutella Fans prima fa un pencherino e poi la manda via. 27-8 per i primi 400 e Nutella Fans sfrutta al meglio la libertà davanti per essere battistrata in costatrice. Nuvolore al secondo Alesterno Libo Fidl e poi New Hope è partito 4 in col del numero 12. Nuvolore al secondo Alesterno Libo Fidl e poi New Hope sposta Morgana B. Nuvolore guadagna qualcosa la costo M. C'è all'esterno il numero 8 di Maga De Julivi con al comando sempre Nutella Fans. Nuvolore che la tallona all'esterno l'UberTDL dal primo metro e si attacca all'ultima curva con un altro parziale svelto in 14-6. Nutella Fans non ammette interferenze con Nuvolore che adesso sta rimontando il numero 7 di Nuvolore. TdL, Morgana B. è in terza ruota sposta Nuvolore per andare su Nutella Fans. Nutella Fans che guida, Nuvolore che ci prova, sono tutti stanchi perché il ritmo è stato indiabolato. Nutella Fans al comando, Nuvolore che cerca l'aggancio di vento in girello. Nuvolore numero 3 di New Hope, Nutella Fans. La vinta dal pezzo questa trice in partenza e sul palo si salva da tutti. Secondo all'esterno è Nuvolore che dovrebbe aver battuto il numero 3 di New Hope. Nutella Fans che dalla seconda fila zenta una partenza velocissima, punta su primi, venire gatti, passa e poi guardate non muove mai le mani. Sicuro della sua Nutella Fans, corre bene anche Nuvolore che finisce forte a largo dal secondo. 16 al primo, 1 al secondo, 3 al terzo, vediamo per il quartello è quinto, il 15 di Noto d'Alfa è quarto, il 12 di Morgana B. è quinto. Il vincente dunque della crisi è il numero 16 Nutella Fans che fa da 4,41, 13,8. Fa sale un po' al contrario ma la qualità ha pesato soprattutto dopo la partenza veloce.